Mi chiamo Luisa Angela Falchi, sono la titolare e anche amministratore del Salumificio Vecchi a Castelnuovo Rangone di Modena. La nostra è un'azienda a carattere artigianale, di lavorazione carni, ma soprattutto prodotti di lunga storia tradizionale come zamponi e cotichini. Del progetto Icon, è un progetto del quale ne siamo venuti a conoscenza nel giugno del 2018, in occasione del Research du Business a Bologna. In questa occasione ho potuto apprendere che questo interessante progetto mi avrebbe dato la possibilità di cambiare quella che è un po' l'immagine della nostra azienda, immagine rivolta soprattutto a quella che è la sensazione dell'acquirente nel momento in cui acquista un prodotto su uno scaffale. Il metodo che abbiamo adottato durante i paliocasi è solo di seguire il schema del food mentor che è stata la base del progetto Icon Project. L'azione iniziò quando UNICEF, il partner Icon Knowledge per l'area del design di alimentazione, fu chiamato in operazione da un progetto locale e facilitatore, quando il soggetto del paliocase riguarda il design di alimentazione di alimentazione di alimentazione. Abbiamo relazionato con il dottor Secco e il dottor Gaino, che sono entrambi professionisti all'interno di questo progetto, che ci hanno evidenziato tutte quelle che sono i punti di debolezza dell'immagine con il quale noi ci proponiamo. Abbiamo completato l'analisi e preparato un rapporto specifico dettagliato l'informazione collettata durante l'on-site visit, le necessità che sono espressi dalla compagnia, le nostre risultate e le domande esperte sulle soluzioni di packaging, un'extensiva collezione di immagini di packaging seleccionato per essere usati sia come referenti positivi o negativi. Il vantaggio di questo progetto e di queste evidenze a noi poste porta alla nostra azienda la possibilità di ovviamente proporci sul mercato con una netta distinzione rispetto al passato, con comunque sempre una gradevolezza di immagine perché nella nostra immagine noi vogliamo ricordare che siamo un'azienda artigianale e soprattutto di comunicare all'acquirente il fatto che oltre ad essere un'azienda artigianale, noi siamo un'azienda che lavora quasi a chilometri zero, solo carni italiane, tutti fattori molto molto importanti per la fiducia anche che il consumatore pone alle produzioni fatte nel nostro paese. The ultimate goal of our action was to provide the companies with relevant information to develop and tune an effective and complete brief for a packaging solution that better suit their needs. We believe that the ICON project represented a good option for these companies to understand how to better manage the design of packaging solution for their products. Grazie.